Fiamme nei locali e fumo nero tra i palazzi in via Montesanto, nella zona residenziale periferica di Andria. Un incendio è divampato all'interno di un garage privato, fortunatamente senza il coinvolgimento di residenti o passanti. Dinamiche ancora da accertare, ma il rogo potrebbe essere partito da un veicolo in autocombustione in uno dei locali interni al garage. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì, attirando anche l'attenzione e la curiosità di diversi cittadini di passaggio nella zona. Danni lievi alle pareti dell'edificio e sulle facciate dei condomini adiacenti. Evacuate due famiglie dello stabile che attendono la conferma dell'agibilità per rientrare in casa. Sul posto è intervenuta una squadra di soccorso dei vigili del fuoco, insieme ai carabinieri e agli agenti della polizia locale che hanno regolato la circolazione in via Montesanto e nell'area circostante. Traffico congestionato interamente ripristinato in serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.